Musica Il 15 maggio 2015 scade il termine concesso dal Tribunale di Trevisola San Gallivetro Manfredonia per la presentazione di una proposta definitiva di concordato breventivo o di una domanda di omologazione di accordi per la ristrutturazione dei debiti. Ancora nessuna notizia in merito ad una proroga relativa al termine indicato. Sul fronte di nuovi investitori nulla ancora di ufficiali ma voci su quattro cordati interessati al sito di Manfredonia. Come emerso nel corso della riunione del Mise del 18 febbraio scorso affinché la cassa integrazione non finisca con l'essere un mero accompagnamento verso la mobilità e la chiusura delle attività di Manfredonia, la Regione e Mise hanno assunto l'impegno di indicare una società specializzata di scouting per intercettare i potenziali investitori che vogliono rifare il forno produttivo di Manfredonia. Secondo gli accordi la società di scouting sarà pagata solo se avrà raggiunto un successo. Ma oggi non c'è ancora nulla di concreto ma tuttavia numerose sono le voci relative alla presenza di referenti di una società iraniana l'altro ieri in visita allo stabilimento San Galli di Manfredonia accompagnati da un responsabile della società. Nessuna comunicazione ufficiale giunta ai sindacati e né sul tavolo del Mise. Nei giorni precedenti anche altri gruppi interessati hanno visitato lo stabilimento di Manfredonia confermando il loro interessamento. Bagno di folla nel comitato elettorale di Gian Diego Gatta, consigliere regionale uscente e candidato nella lista di Forza Italia. Cinque anni fa fece il botto conquistando quasi 14.000 voti. Questa volta non sarà facile ma Gatta ci crede. Ci sto mettendo l'anima, ci credo. La politica è un'arte nobile e deve rappresentare di nuovo un valore positivo per la gente. La gente è disaffezionata, troppi cattivi esempi, troppi cattivi maestri. Chiaramente la disaffezione della gente dalla politica nuoce a chi si impegna, sottoscritto ma anche tanti bravi e meritevoli colleghi. Ci metto la passione che questa terra merita. Bisogna amare. Non si può difendere ciò che non si ama. Io lo sostengo da sempre, fu addirittura un mio slogan. Io amo questa terra e continuo e continuerò a battermi per questa terra. A supporto dell'avvocato Manfredoniano, l'europarlamentare lucerina Barbara Matera, amareggiata dalla divisione del centrodestra. È un centrodestra che attraverso il 31 maggio avrà la forza di rialzarsi, guardare lontano, affrontare le nuove sfide future, farlo con uomini e donne di questo partito che sin dal 94 ci credono. Io nel 94 ero troppo giovane, però la storia di questo partito è così forte che è arrivata anche a me negli anni. E noi siamo orgogliosi e fieri di far parte del partito degli Alisti. Quindi qui questa sera a Foggia ci siamo uniti attorno ad uno dei candidati che da sempre, da anni, è fedele a questo partito. Rilascio del duplicato della tessera elettorale. Per le elezioni amministrative del prossimo 31 maggio, gli elettori sono invitati a verificare se siano in possesso della tessera elettorale per ottenere il duplicato all'ufficio elettorale in caso di smarrimento. L'ufficio elettorale sarà aperto al pubblico dal lunedì 11 maggio a giovedì 28 maggio, ogni pomeriggio dalle 16 alle 19, escluso il sabato e la domenica, mentre venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio dalle 9 alle 18. Domenica 31 maggio, invece, l'ufficio elettorale sarà aperto tutto il giorno dalle 7 alle 23. È possibile rilasciare il duplicato della tessera elettorale a persona diversa dal titolare, solo con apposita delega dell'intestatario della tessera elettorale, accompagnato da un documento di identità dello stesso. Gli elettori che abbiano cambiato indirizzo nel frattempo all'interno del Comune di Manfredonia devono apporre sulla tessera elettorale, tagliando di convalida con l'indicazione della nuova sezione o plesso elettorale. Il 17 maggio torna Bici in città a Manfredonia. Il Comitato Territoriale UISP di Manfredonia e del Gargano, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, organizza per domenica 17 maggio una manifestazione sportiva in bicicletta, una passeggiata dove si percorreranno le vie della città e il lungomare di Manfredonia e Siponto. La manifestazione sarà coadiuvata dalla Polizia Locale per la Sicurezza Stadale e della Croce Rossa per la parte Soccorso e dei volontari che correranno l'edizione di marcia. Durante il percorso ci saranno postazioni di ristoro alla passeggiata in bici, possono partecipare i noni, i genitori, i figli e i nipoti. Il ritrovo è previsto alle ore 9 in Piazza Duovo a Manfredonia per domenica 17 maggio. E anche a Manfredonia torna domani in Piazza del Popolo, la Zalea dell'Aerge. 600.000 azalee, 3.600 piazze italiane, 50 anni di ricerca, 104 progetti pluriennali. Sono questi i numeri dell'edizione 2015 della campagna di sensibilizzazione emessa appunto dall'Aerge, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che torna domani su tutto il territorio nazionale per distribuire il fiore, che è da oltre tre decenni il simbolo della battaglia contro i tumori femminili e lanciare un appello. La ricerca sta facendo passi da gigante, ma tra le donne di ogni età deve naturalmente e maturare necessariamente la consapevolezza dell'importanza di aderire agli screening e di adottare stili di vita corretti, tra questi seguire un'alimentazione sana. Anche a Manfredonia i volontari dell'Aerge saranno presenti con uno stand per raccogliere chiunque voglia contribuire con una donazione di pochi euro, alla quale poi verrà associata una consegna di una zalea, un regalo speciale per la festa della mamma e per finanziare e combattere la ricerca sul cancro. I volontari dell'Aerge saranno in Piazza del Popolo domenica mattina dagli ore 9 alle ore 13. Ultima giornata per il Manfredonia Calcio, domani Manfredonia Taranto, in occasione del match tra Manfredonia Taranto per la ricorrenza della festa della mamma, il Miramare si timpia di rosa con ingresso gratis per le donne. Anche l'albitro della gara di domani sarà una donna, la signora Maria Marotta Di Sapri. L'incontro inizierà agli ore 15. L'incontro inizierà agli ore 15.